Il nuovo scaffale tematico della Biblioteca della Regione Piemonte da lunedì 28 maggio a venerdì 15 giugno è dedicato a Ecoletture, piccoli gesti di ecologia quotidiana. Si va dalle piante commestibili da coltivare sul terrazzo o in giardino, fino ai detersivi autoprodotti, ai giocattoli creativi per arrivare al turismo responsabile. I 13 titoli selezionati sono disponibili per il prestito al pubblico nelle sale della Biblioteca in via Confianza 14 a Torino.